Salve a tutti giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video Oggi voglio parlare un attimino del decadimento di Alluber Non a livello di gioco ovviamente ma a livello di prezzo Perché Yu-Gi-Oh! ha questa tendenza di far aumentare i prezzi in maniera smisurata Per poi randomicamente alla terza quarta di stampa Dalla fine non tanto randomicamente o comunque farli crollare nella maniera più assoluta Prima di iniziare come sempre mi invito a iscrivervi al nostro canale Prima di iniziare aggiornati con mondo Yu-Gi-Oh! Non solo grazie mille Alla fine più le volte che li fanno aumentare che li fanno diminuire Ovviamente attenzione ricordiamolo perché questo Subiscono una grande ridimensionata dopo tantissime ristampe Ma delle volte neanche così Quindi correggiamo, correggiamo prima che la gente mi inizia ad insultare Allora, i Megateen hanno abbassato drasticamente i prezzi di praticamente tantissime staples Da Dragoon, da D.P.M. Ma soprattutto un crollo epocale per quello che era stato Alluber Perché Alluber quando uscì Albaz iniziò ad avere prezzi completamente assurdi 80-90 Quanto cavolo era arrivato? Mi ricordo tipo 80 Però comunque in quelle cifre lì Ristampato subito il prezzo si è abbassato molto Perché comunque da 80 Quanto era arrivato? 20? Non mi ricordo comunque si era abbassato tanto E adesso possiamo trovarlo addirittura a 5€ Quindi per chi gioca Albaz, Despia e tutto il resto così Brand ed è un grandissimo affare Forse si aumenterà perché vediamo la tendenza di prezzo che comunque tende ad alzarsi Stavolta ho fatto il video con Cardmarket Così ho la prova che mentre faccio il video il prezzo è quello No, perché io faccio il video 10 secondi dopo da 5 passa da 87€ Così completamente random E anche il brand opening è diminuita i prezzi Più o meno di quando avevo fatto la prima per il primo upgrade di Albaz Ai tempi costava un cavolo Poi è arrivato a 40 milioni E' costato quanto un giocatore de calcio E quindi niente Videino solo per dire che bello quando crollano i prezzi Che bello vedere Albaz da 85€ Molto molto bello Una cosa che praticamente apprezzo Perché noi giocatori budget comunque abbiamo bisogno Abbiamo bisogno di questi crolli Teoricamente ora come ora un po' più tutto fattibili Anche se magari non propriamente budget 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 Nel senso Vi spiego Budget budget Magari voglio Dragon lo vado a pagare 15€ Perché prima ho visto la tendenza era sui 12 Mettiamo 15 E' fattibile E' budget Ma non è budget 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 tipo pagarlo 5€ Era questo il senso Cioè budget E poi c'è il budget ancora più economico E io lavoro in quella zona di penombra Che va bene insomma E niente ragazzi Se volete approfittare di Alubair fatelo Sembra molto sconcia come cosa ma Ma no Prendetelo se vi serve assolutamente Credo che questo sia il periodo migliore per andare ad acquistare Comunque E' fattibile Alla fine un 3x fondamentale lo è a pagare Meno di un hash Perché si E quindi andate a prenderlo Detto questo ragazzi Potete sapere voi cosa pensate Noi come sempre ci vediamo nel prossimo video E' un sottotte